Santità, mi associo con profonda emozione all'espressione di gratitudine del Segretario Generale Nobel e le porgo, anche a nome del Governo italiano, il saluto più reverente. L'udienza che ella ha voluto concederci cionora e allo stesso tempo testimonia la sua grande e ben conosciuta sensibilità per la pace e la giustizia nel mondo, che oggi sono messi in grave pericolo dalle organizzazioni criminali trasnazionali e dal terrorismo. Infatti, la violenza sistematicamente praticata dal terrorismo e dalla criminalità trasnazionale causa ogni anno sofferenze e lutti a milioni di vittime inermi in tutto il mondo, specialmente a donne e bambini, e impedisce il progresso materiale e spirituale di intere regioni. L'entità della sfida è tale che nessun Paese, neppure il più potente, può farvi fronte da solo. Per questo è necessaria la cooperazione internazionale. Padre Santo, oggi sono convenuti, al suo cospetto, in questo luogo sacro, uomini e donne di tutti i paesi del mondo, uomini diversi per lingua, cultura e religione, e tuttavia uniti e animati da una profonda fiducia in un mondo meno brutale, più giusto e più umano, accumunati in altri termini da un'utopia, ma da un'utopia realistica, ragionevole e possibile, da cui essi recano testimonianza quotidiana e che con il loro lavoro e sacrificio si adoperano per tradurre in pratica. Credo, pertanto, che i rappresentanti della comunità mondiale di Interpol, qui riuniti, si attaglino le luci delle lungimiranti parole del beato Giovanni XXIII nella sua storica lettera enciclica Pace Minterris, sul compito immenso gravante sugli uomini di buona volontà, il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà, i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani, fra i cittadini e le rispettive comunità politiche e fra le stesse comunità politiche. A lei ci rimettiamo con totale fiducia e chiediamo la sua apostolica benedizione nella nostra quotidiana lotta per la pace, la sicurezza e la giustizia del mondo.